Né Ningite, turista inglese, muore all'ospedale Sant'Andrea, vani i tentativi di rianimazione. Diocesi in raccoglimento per la festa del patrono, ieri la solenne celebrazione della messa in arsenale. Fiera da record, superate 200.000 presenze, successo anche per la notte bianca di sabato. Inaugurata la mostra dedicata a Da Vinci nella fortezza firma fede, disavventura per alcuni visitatori rimasti chiusi nei sotterranei. Trofeo di San Giuseppe, il Lerici, l'armo da battere, doppietta del Porto Venere nelle altre due categorie. Buonasera telespettatori del TLS giornale, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Ricoverata sabato all'ospedale Sant'Andrea è deceduta dopo alcune ore in rianimazione. Una turista sessantenne inglese, saltuariamente residente nel comune di Amelia, è deceduta a causa di sepsi meningococcica in seguito ad uno shock settico. L'ASL 5 ha prontamente attivato gli interventi sanitari a tutela di coloro che avessero avuto contatti stretti con la paziente, ricordando che la profilassi con antibiotico deve essere assunta unicamente da chi ha avuto contatti stretti e prolungati. Ad oggi, nella nostra area geografica, non esistono i caratteri epidemiologici per l'identificazione di un focolaio epidemico. Celebrata ieri mattina la Santa Messa in Arsenale in occasione della festività di San Giuseppe al termine della celebrazione presieduta dal Vescovo Monsignor Palletti, la consueta comunicazione sull'anno trascorso e sulle attività dell'arsenale militare tracciata dall'ammiraglio Stefano Corona. Italo Lugni. Come ogni anno, la presenza delle autorità cittadine, delle maestranze civili e militari, all'interno dell'arsenale si è celebrata la Santa Messa nella festività di San Giuseppe. Preseduta dal Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti, concelebrata dal Vescovo Emerito Monsignor Bassano Staffieri, assieme al cappellano militare, la Santa Messa ha rispettato però i canoni liturgici che hanno fatto prevalere la celebrazione della terza domenica di quaresima, anche se nell'Omelia non sono mancati i riferimenti alla figura di San Giuseppe. Al termine della celebrazione è stato il direttore, ammiraglio Stefano Corona, a tracciare il profilo dell'arsenale odierno, mettendo in evidenza progetti in attuazione senza nascondere le difficoltà. 730 dipendenti civili e circa 70 militari, con 30 milioni di euro di attività nel corso del 2016, a cui si aggiungono 2 milioni di euro di servizi erogati a realtà esterne alla pubblica amministrazione come segno di maggiore integrazione con la città. Un'evidenza sottolineata anche dalla partecipazione dell'arsenale militare al progetto sviluppo indotto, promosso dalla locale Confindustria che ha consentito l'avvio di nuovi progetti. L'operatività dell'arsenale militare si è caratterizzato anche con l'impegno a riportare all'interno molte lavorazioni che negli ultimi anni erano state esternalizzate. Non mancano progetti ambiziosi, come quello di costruire in autonomia una bettolina a doppio scafo. Tra le attività di maggior pregio, realizzata grazie all'iniziativa del personale civile e militare, l'adattamento di un bacino di carenaggio, rendendolo capace di ospitare fregate classe EFREM, consolidandosi come unica realtà pubblica in grado di farlo e senza attendere lo sviluppo del progetto BRING. Su questo il pensiero e le sottolineature sono più puntuali. L'arsenale per poter continuare a rappresentare per la città di La Spezia un centro di eccellenza ha bisogno di fare degli ulteriori passi in avanti. Noi parliamo del piano BRING, ma non è del piano BRING in sé per sé che voglio parlare, ma del piano BRING nella sua globalità che passa dal rinnovamento delle infrastrutture, dal rinnovamento del personale, dal rinnovamento del progetto, dell'idea dell'arsenale, dal rinnovamento della governance. Non si può parlare solamente di piano BRING e parlare di infrastrutture, no? Perché il piano BRING non è solamente un progetto infrastrutturale e non si può limitare solamente a un'operazione immobiliare. Quindi va preso nella sua interezza. E quindi non conviene nemmeno parlare di finanziamenti, perché immagino se voi fate un giro per l'arsenale potete capire cosa possono fare 30 milioni in appalti pubblici su un sedime che occupa circa la metà del Golfo di La Spezia, che va da Cadimare fino al Porto Mirabiello. Cioè 30 milioni sono veramente una goccia in mezzo a uno scevolo, che servono a malapena ad arrestare il degrado. In ultimo la necessità espressa come un appello di inserire nuove maestranze nella struttura, anche trovando formule innovative, ma capaci di addestrare nuove professionalità adeguate ai bisogni della flotta ed identificate in gergo con quel 4.0 di cui tanto si discute. E sulla comunicazione del direttore dell'arsenale, Ammiraglio Corona, che avete appena ascoltato, abbiamo sentito le posizioni del sindacato. Ho ascoltato attentamente la relazione dell'ammiraglio che è stata fatta stamattina nel consenso della festa del San Giuseppe e posso anche condividere quello che ha detto l'ammiraglio, in special modo nel passaggio che è stato fatto sul ragionamento dell'applicazione del piano brina a 360 gradi. Io condivido che il piano brina a 360 gradi voglia dire rimettere in piedi le infrastrutture dell'arsenale, voglia dire uno sblocco del turnover per assumere dei giovani e trasmettere dalle professionalità più anziane, trasmettere giustamente il know-how ai giovani. Però credo anche che debba essere fatta una grida forte al Ministro che in questi anni aveva promesso finanziamenti del piano brin in tre anni e che purtroppo sembrerebbe addirittura che sono slittati a quattro e che addirittura i soldi non ci siano ancora tutti, diciamola così, e più in particolar modo sbloccare il turnover perché rifare la legge navale ha rifatto le navi nuove, l'arsenale se venisse applicato il piano brin, le infrastrutture verrebbero rifatte nuove e le navi e l'arsenale nuovo senza i dipendenti pubblici e quindi gli operai riformati, i giovani, rischierebbe di andare in mano completamente all'industria privata. Le parole dell'ammiraglio sono state importanti e le condividono una buona parte della sua relazione, specialmente nell'ultima parte quando diceva di fare un arsenale che può lavorare sia per la Marina che per l'esterno, sicuramente. La cosa importante sono le assunzioni, io penso che ormai le parole dell'ammiraglio e la sua relazione debbano far riflettere sia lo Stato Maggiore Marina che il Ministero Difesa, la Ministra Pinotti, perché ormai non c'è più parole, bisogna fare dei fatti, dei fatti che si vedano sulle assunzioni e sulle altre cose che possono portare un beneficio al nostro arsenale, perché come diceva l'ammiraglio deve fare anche una cosa sociale verso la città e le assunzioni sarebbero una cosa buonissima, penso che più di 100 assunzioni sarebbero la cosa da varare subito domani e cercare di fare un concorso o quello che diceva l'ammiraglio prima, trovare nuovi mezzi per assumere personale a tempo determinato, forse è una cosa un po' fuori dalle nostre logiche, però potremmo lavorare insieme per vedere se c'è qualcosa da fare, io credo che sia una cosa positiva. Il modello Marina pubblico privato per l'arsenale militare è un asset strategico per la città e il paese, lo sottolineano Matteo Bellegoni, segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia e Daniele Lombardo, segretario FP CGL, l'abbiamo anche scritto nel piano provinciale del lavoro, sottolineano in una nota, è un modello fondato su nuove assunzioni a tempo indeterminato, scuola, lievi e operai, progetti industriali con le ditte dell'indotto, bene la legge navale che ora deve tradursi in investimenti concreti, siamo in sintonia con le dichiarazioni dell'ammiraglio Corona, proseguono per un'apposita legge nazionale in tempi brevi per regolare il rilancio produttivo degli arsenali. Chiediamo uno scatto alle istituzioni, alle associazioni di categoria, alle forze politiche per uno spirito di squadra verso un obiettivo strategico per il futuro della città. Fiera da record, ieri la giornata conclusiva, confermate 200.000 presenze, Selene Ricco e Davide Morino. Il primo giorno si guarda, il secondo si compra e il terzo si cambia, potrebbe essere un luogo comune ma forse è realmente così. Nella giornata di domenica, l'ultimo giorno di fiera, come era prevedibile sono davvero tantissime le persone che si sono riversate tra le bancarelle. Sicuramente il giorno che ha registrato un maggior flusso di persone, ma andiamo proprio a chiedere anche agli operatori come è andata. Domenica è anche la giornata dei bilanci, come è andata questa fiera di San Giuseppe? Come al solito ormai è trentennale la nostra presenza qui nella località di La Spezia e diciamo che ogni anno ci dà sempre una soddisfazione diretta per quanto riguarda presenza e furso di pubblico e anche tante famiglie che si raccolgono qui nella vostra località molto molto bella. Ecco, avendo anche esperienza nelle varie fiere sul territorio nazionale, cosa c'è di diverso? Ma diciamo che è un po' l'atmosfera che porta all'allegria, al divertimento, l'atmosfera del mare. È una fiera molto sentita anche a livello di persone un attimino anche un po' più anziane. Vediamo molte famiglie, vediamo molta gente che comunque torna e ritorna anche nelle località limitrofe di La Spezia e dintorni, diciamo. Un bilancio su questa edizione, possiamo parlare di un bilancio positivo? Va bene, va bene così, l'importante è il tempo che è uscito bene, è mantenuto. Ecco, siete presenti ogni anno qui alla fiera La Spezia? Sì, sì, ogni anno va bene. Ha qualcosa di diverso rispetto alle altre fiere? È una bella fiera, è una bella fiera grande. Grazie. Ecco, dopo la gara non poteva mancare il momento trascorso a mangiare un panino. Sì, esatto, ci voleva. Pubblica assistenza della Spezia, siete stati qui per tre giorni a monitorare la situazione, insomma, com'è andata? Possiamo fare un bilancio, diciamo, quasi alla conclusione di questa fiera? Beh, anche gli anni scorsi devo dire che è stata una fiera impegnativa perché comunque ha una grande affluenza a Spezia, però con l'impegno della pubblica assistenza e anche degli altri enti abbiamo gestito, penso, abbastanza bene la situazione. Poi sarà la cittadinanza a valutare. Ecco, tra l'altro qui le persone potevano venire, ad esempio, a farsi misurare la pressione e cos'altro? Sì, oltre a avere comunque delle squadre a piedi, cioè, sono sempre dei punti di riferimento in cui chi ha bisogno può chiedere, ad esempio anche semplicemente per misurarsi la pressione. E a fare da corollario il paglio di San Giuseppe, giunto con l'assenazione del trofeo alla sua quindicesima edizione, a farla da padrone l'erici tra i senior, Porto Venere, sia tra le donne che tra gli junior. Doppietta del Porto Venere e successo dell'erici tra i senior, finisce così la quindicesima edizione del trofeo di San Giuseppe. L'evento, che si è svolto ieri mattina nello specchio acqua e antistante passeggiata Morin, ha visto la partecipazione di 27 equipaggi, 7 femminili, 9 junior e 11 senior. Le prime a scendere in acqua, come sempre, sono state le ragazze. Una gara equilibrata dove ad avere la meglio è stato il Porto Venere, formato quasi totalmente dalle campionesse in carica che lo scorso anno hanno vinto il palio con la maglia del Cadimare. Elisa Saglione, Caterina Brugnera, Sara Drovandi e Francesca Bellettini, con Giorgia Stella al timone, hanno messo la propria prua davanti a quella di un sorprendente CRDD, rinnovato per metà. Più distante, il Fossamastra, vincitore in occasione della gara di Natale, arrivato ieri solo terzo. A seguire, il Marola, che ha superato le grazie, e Muggiano. Si sono invece ritirate, poco dopo la partenza, le giovani ragazze del Cadimare. Il Porto Venere fa il bis e vince anche nella categoria juniores. Ad avere la meglio sono infatti Stefano Cardia, Daniela Argiolas, Sergio Guidotti e Francesco Bella, timonati da Christopher Mammi. I ragazzi, eccezione per il capovoga, sono gli stessi che lo scorso anno hanno portato la borgata alla conquista del palio junior. Sul podio anche Fezzano e Canaletto. Arriva quarto il Sant'Erenzo, mentre è sfortunato il Cadimare, che termina con orgoglio la gara, arrivando quinto, nonostante la rottura di un remo. Bene il CRDD, che supera Fossa Mastra, Marola e Le Grazie. Tutto secondo pronostico nei senior, a vincere il Lerici, formato dagli ex campioni, che nel 2014 e nel 2015 portarono il palio prima a Le Grazie e poi a Fezzano. È stato un ritorno decisamente atteso, quello di Giacomo Mori, Giuseppe Liberatore e Diego D'Imporzano, che insieme al capovoga Leonardo Richiusa e al timoniere Manuel Zanatta, impegnato nella sua prima gara, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsi questa 92esima edizione. L'armo, allenato da Paolo Lavalle, ha infatti tagliato la linea del traguardo prima di Canaletto e Fossa Mastra, che si confermano tra i favoriti dopo gli ottimi risultati ottenuti in occasione anche del palio d'inverno. Chi però è stato davanti alla barca Rosso Verde per più di mezza gara è stato l'equipaggio del San Terenzo. Partito primo, domina per oltre mille metri, cede sul finale anche a causa di un giro di voa sbagliato che costringe l'equipaggio alla successiva squalifica. A seguire il Cadimare, che supera Fezzano, che non era in forma titolare, e poi Muggiano, Marola e Le Grazie, ritirati gli equipaggi di Tellaro e Portovenere. Appuntamento con il palio del Golfo rinnovato a domenica 21 maggio. salta infatti la gara di Fossa Mastra, la prima in programma nel calendario, a causa di un mancato permesso per l'allestimento del campo di gara. Il primo impegno sarà infatti quello di Tellaro. Questa sera lo speciale sulla gara Trofeo di San Giuseppe in onda alle 21.40. E centro città invaso con grande successo anche per la Notte Bianca di San Giuseppe. Daniele Rabuazzo. Centro storico preso d'assalto sabato sera per la Notte Bianca di San Giuseppe. Le bancarelle della fiera, aperte sin oltre l'ora di cena. Poi spazio a giocoglieri, musica nelle piazze cittadine, bar ed eor pieni in ogni dove. A farla da padrona, come sempre, musica live, dicevamo, ma anche saltimbanchi per le vie del centro storico, da piazza Ramiro Ginocchio a piazza Mentana, passando per piazza Sant'Agostino e ancora piazza Garibaldi e piazza Verdi. La Notte Bianca non è stato solo puro e sano divertimento, ma anche momenti culturali con l'apertura straordinaria dei musei cittadini, dal Museo LIA al CAMEC, Museo Tecnografico, e del Sigillo, Museo Diecesano. Insomma, una Notte Bianca ben riuscita, scongiurata la pioggia, che mattinata aveva attanagliato la città. Una città che ha riscoperto le proprie radici e la propria identità. Un vero e proprio fiume di festeggiamenti per le vie del centro storico, una città ancora più viva ed una rivederci al prossimo anno. E in concomitanza con la Notte Bianca di San Giuseppe, anche quella della solidarietà organizzata dalla Caritas Diocesana. Accanto alla Notte Bianca fatta di musica, saltimbanchi, dehors, bar e musei aperti, sabato sera, nella centralissima piazza Beverini, la tenda della pace, la Notte Bianca della solidarietà. Momento di riflessione organizzato dalla Caritas Diocesana. Vuole essere un momento in cui preghiamo per la pace, forse in questo mondo che è un po' agitato, un po' come il mare a volte. Noi stasera vogliamo essere un segno in questa Notte Bianca per chiedere a San Giuseppe, il nostro patrano peraltro, che doni veramente l'opportunità di incontrare il Signore. Tanti che forse, passando qua di fronte alla nostra tenda, magari non penserebbero di poter avere un incontro speciale. Due i momenti significativi della serata. Uno all'interno della tenda, l'altro all'interno della chiesa abaziale di Santa Maria Assunta. Nella tenda dove chi è fuori può entrare per avere così un dialogo col Signore, qua c'è le croce fisse, appunto, una Bibbia aperta. E fuori dalla tenda c'è un filmato che un pochino vuole essere il modo per richiamare l'attenzione sulla bellezza dell'incontro col Signore. Secondo step poi nella vicina chiesa di Santa Maria, dove ci sono sacerdoti disponibili per le confessioni, c'è Santissimo Esposto e quindi vivere un momento di adorazione e di dialogo col Signore. Obiettivo poi della serata, avvicinare il maggior numero di giovani ai temi della riflessione e della preghiera. Di chi ti fidi, ti fidi di me, questa è un po' la domanda della serata. Noi ci fidiamo del Signore, vogliamo proporlo anche a tanti che passeranno qui davanti. E penso che sia ancora bello in questo 2017, tra le tante proposte, vivere la proposta con la P maiuscola, che è quella del Signore. In questa Notte Bianca ci proviamo e ci crediamo. Voltiamo pagina, appello all'unità del Partito Democratico della Spezia da parte del senatore Caleo. Il PD Spezzino questa sera si riunirà nell'Assemblea dell'Unione Comunale per decidere se convergere su un candidato unitario in vista delle amministrative o indire le primarie. Per Caleo la scelta di una candidatura unitaria di centro-sinistra sarebbe un altro successo per il PD dopo la scelta di Crivello a Genova e Vattuone alla segreteria regionale. Oggi vorrei parlare del PD, del PD Ligure, con due belle notizie in attesa di una terza. La prima bella notizia è l'elezione del segretario regionale in maniera unitaria, il senatore Vito Vattuone. Io conosco Vito da tanto tempo, abbiamo lavorato assieme in questi quattro anni in Parlamento, portando a casa risultati molto importanti per la nostra regione, dalla legge navale, alle risorse per l'arsenale, alle risorse per i parchi, alle risorse per i comuni nel post alluvione. La seconda notizia è l'individuazione nel comune di Genova di una candidatura unitaria in Gianni Crivello. Gianni è stato assessore ai lavori pubblici, un momento molto particolare per la città di Genova. L'ha fatto in maniera seria, competente e credo che farà bene anche il sindaco del comune di capoluogo di regione. Siamo in attesa della terza bella notizia, che è la candidatura, mi auguro, unitaria del PD per il comune della Spezia. È da tempo che ho invocato una soluzione di questo tipo, ci siamo vicini. Faccio un appello a tutti per individuare una candidatura unitaria. Il dopo Federici, che ha amministrato bene in questi dieci anni, ha bisogno di una persona seria, competente, riconosciuta dalla città e soprattutto, e qui è il valore aggiunto, un partito democratico unito. Il Movimento 5 Stelle intanto perde un altro pezzo. Il capogruppo a Sarzana, Walter Chiappini, consigliere comunale, si è autosospeso, fonderà il gruppo consigliare Sarzana in movimento, il Casus Belli, il Metodo Genova e poi la presenza, a sorpresa, in una riunione del Movimento starzanese, della capogruppo regionale Alice Salvatore, secondo Chiappini, per controllare e provocare i cosiddetti eretici vicini al foruscito consigliere regionale Battistini. Esco da un sogno trasformato in incubo, scrive oggi Chiappini in una lettera aperta. I principi del Movimento sono oggi un cumulo di macerie, demoliti da questa pazzesca deriva, prosegue Chiappini, che elenca infine i motivi di questo passo. Al centro, i giochi di potere dei grillini, più vicini al Salvatore. È nato il Movimento civico Spezia al centro, la nuova iniziativa di area centrista emerge dopo una serie di incontri tra un gruppo di democratici cristiani, tra cui Daniele Biagioni, già vice segretario regionale del Centro Democratico di Bruno Tabacci, e l'ex segretario provinciale dei popolari Udeur Grazzini. Spezia al centro, spiega Biagioni, sarà tra i protagonisti delle imminenti amministrative. Abbiamo individuato cinque priorità che costituiscono la nostra base programmatica, lavoro, sanità, ambiente, sicurezza, cultura. Nei prossimi giorni la presentazione ufficiale del logo e le eventuali alleanze. Con un ennesimo blitz e senza preavviso, il Governo ha cancellato il lavoro accessorio, ovvero i voucher. Eppure avendo dato la possibilità di consumare i buoni lavoro già acquistati per tutto il 2017, di fatto ne sta impedendo la fruizione, avendo ad oggi bloccato tutto il sistema telematico di accredito. È la denuncia di Giorgia Caporilli, di Confcommercio La Spezia, che, precisa in una nota, chiediamo che venga ripristinato il diritto di avere un preavviso almeno i 15 giorni dalla pubblicazione delle norme, prima di decidere. L'assessore alle politiche della cultura, Luca Basile, risponde al consigliere di opposizione Guerri sui ritardi nei lavori per la biblioteca storica di Palazzo Prozza, che avrebbero impedito agli studiosi l'accesso all'archivio storico. Guerri, dice Basile, non perde l'opportunità di dare mostra di una vocazione alla polemica, purtroppo segnata da Finsipienza. Il patrimonio documentario dell'archivio storico comunale sin dall'inizio dei lavori è stato trasferito nella sede della provincia di Viale Amendola, già liceo Pacinotti, dove è consultabile suo appuntamento. Inoltre, conclude con un annuncio Basile, la biblioteca Mazzini sarà presto presentata e restituita alla città. Questa sera alle 21, al termine del nostro telegiornale, il consueto appuntamento con finestra sull'Asl, ospite il dottor Claudio Bianchi, direttore della struttura complessa di chirurgia dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Italo Lunghi. Dottor Bianchi, direttore della chirurgia generale dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, una specialistica che si occupa di un particolare tipo di interventi. Quali sono? La chirurgia di San Bartolomeo si occupa fondamentalmente di chirurgie ad alto volume, media complessità, le cosiddette prestazioni in dei sargeri, cioè quelle prestazioni ad agenza breve, e con una differenziazione nelle prestazioni tra la chirurgia del Sant'Andrea, dove è dedicata soprattutto la chirurgia ad alta complessità e d'urgenza, la chirurgia oncologica, e appunto la chirurgia del San Bartolomeo dedicata a chirurgia a rapido turnover, a rapido scambio di pazienti. Che non significano interventi più semplici, ma interventi che si possono fare con una tecnica particolare che consente appunto un ricovero più breve. Assolutamente, non vuol dire intervento semplice, ma vuol dire intervento nella migliore organizzazione possibile. Dunque interventi anche complessi che prevedono comunque un periodo di osservazione più breve, cioè un ricovero limitato alle ore, diciamo, del giorno o comunque al giorno successivo. Abbiamo anche evidenziato un altro tipo di patologia che la nostra chirurgia generale di Salzana può offrire, è quella della chirurgia bariatrica. Sì, la chirurgia bariatrica rappresenta la chirurgia per il trattamento dell'obesità grave, dell'obesità patologica, quando sostistono le indicazioni ovviamente per arrivare a tale chirurgia, ed è un tipo di chirurgia che si avvale dell'impegno e dell'ausilio di un vero team multidisciplinare dove diverse figure professionali intervengono per studiare il paziente e per dare la precisa indicazione alla chirurgia. Ecco, coordinamento delle diverse specialistiche, alta tecnologia, grande professionalità, di questo e di tanto altro questa sera nella puntata di Finestra sull'Asla. Seguiteci. Il distretto Ligure delle Tecnologie Marine ha sottoscritto con la Società Servizi Finanziari per l'Industria una convenzione allo scopo di fornire supporto alle aziende associate su bandi nazionali, agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo, organizzando un servizio completo di consulenza e supporto per tutte le fasi previste dalle varie procedure. Inaugurata sabato a Sarzana nella Fortezza Firma Fede è la presenza del Sindaco un'esposizione dedicata alle macchine di Leonardo da Vinci. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 1 maggio e nei primi giorni di apertura ha già visto la partecipazione di quasi 500 visitatori. Maria Cristina Sabatini e Davide Morino. A Sarzana una mostra sulle macchine di Leonardo è realizzata in base ai disegni originali di Leonardo da Vinci e ricostruiti da artigiani fiorentini. Cosa potremmo vedere? Allora, sì, la mostra appunto è divisa in quattro sezioni che sono il volo, uno dei temi sicuramente più interessanti di Leonardo, che ha trattato Leonardo, le macchine interattive, quindi molti modelli che sono effettivamente interattivi, quindi chiunque venga alla mostra può provare ad utilizzare queste macchine. Poi le macchine da guerra e qua dietro di noi vediamo uno degli esempi più belli, no? Questo carro armato vero e proprio che Leonardo pensò 500 anni fa e le macchine poi idrauliche e le macchine meccaniche è la quarta ed ultima sezione. Ecco, come mai l'idea di portare qui nella fortezza firma fede di Serzana questa mostra? Dunque, l'idea nasce dal fatto che intanto siamo in una fortezza medicea del Cinquecento, quindi una struttura militare, quindi frutto dell'ingegno degli architetti ed ingegneri dell'epoca, quindi dei colleghi veri e propri di Leonardo, oltre che conterranei e quindi ci sembrava un tema che si sposava perfettamente, quindi c'è proprio un rimando tra gli oggetti che esponiamo, che appunto fanno parte della mostra, e la struttura cinquecentesca. Chi volesse venire a visitare la mostra di Leonardo ha anche la possibilità di poter visitare il Mudef. Di cosa si tratta? Dunque, sì, a settembre dell'anno scorso abbiamo inaugurato questo importante Museo delle Fortezze, che è un museo con 27 sale interattive, molto all'avanguardia, che tratta, oltre che, diciamo, le fortezze, tratta un po' di tutto il territorio della Lunigiana, che è un territorio, come è noto, ricco di forti, fortezze, castelli, e quindi questo museo è a Sarzana, ma in realtà parla di tutta la Lunigiana, è un po' una porta storica, culturale, turistica, informativa, che si apre su tutto il territorio della Lunigiana. Fa parte il Museo delle Fortezze e anche questa mostra, questa iniziativa, e tutta un'altra serie di iniziative che abbiamo in programma, insieme al Comune di Sarzana e al Polo Museale della Liguria, di un vero e proprio progetto di valorizzazione. Uno speciale sulla mostra sarà in onda mercoledì alle 21.15 nel nostro TgZoom. E disavventura ieri per alcuni visitatori proprio della Fortezza Firma Fede, rimasti chiusi nei sotterranei, l'episodio è finito nei social network, l'epilogo è arrivato quando a Tentoni abbiamo raggiunto l'uscita, scrivono i protagonisti, nel pomeriggio sono arrivate le scuse da parte dello staff della Fortezza, l'operatore, come da protocollo, è sceso nella prima parte dei sotterranei, con richiami verbali ha comunicato l'imminente chiusura, non ricevendo risposta alle 18.45 ha spento le luci dei sotterranei, pur lasciando aperto il percorso d'uscita. Due visitatori, in ritardo sull'orario di chiusura e senza aver dato risposta ai richiami verbali dell'operatore, sono presentati, dichiarando di essere rimasti all'interno dei sotterranei con le luci spente. Gli stessi visitatori sono poi usciti alle 18.50 autonomamente. Veniamo al calcio, lo Spezia, partendo dall'eliminazione della formazione primavera nella Viareggio Cup, bianchi che escono comunque a testa alta dalla competizione dopo essere stati sconfitti ieri al Ferdeghini dal Milan con il punteggio di 3-1. Venendo alla prima squadra dopo il pari di Brescia, la formazione allenata da mister Di Carlo si è ritrovata a follo per preparare la seconda trasferta consecutiva in programma Cittadella sabato alle 18.00. Per Diokovic avremmo dovuto essere più concreti, sfruttando meglio le occasioni create. Ma sentiamolo in conferenza stampa. Ci mancava un po' più di cattiveria davanti alla porta, però secondo me possiamo prendere come una... C'è tante cose positive perché comunque ci arriviamo con delle giocate studiate in settimana, quindi continuiamo su questa strada e cercheremo di togliersi le soddisfazioni. Poi anche gli arbitri possono sbagliare, ci sta, sono tutti uomini. L'unica cosa che lo può cambiare è la tecnologia e quando tutte le squadre avranno questa tecnologia a disposizione sicuramente qualcosa cambierà. Bisogna metterla veramente dentro forte che così entra, bravo. Così siamo sicuri. Adesso non lo vedo, non ci pare che no, non c'è la prima volta. Ci vuole che spacca la porta, che così siamo sicuri. Sì, guarda, adesso ci sono rimasti 11 finali, no? Siamo a 11 partite e non c'è più niente da... cioè non c'è più da pensare troppo, c'è da giocarcela. Secondo me, come abbiamo fatto a Brescia, cioè ci mancano solo i tre punti, se no secondo me era una partita fatta molto bene. Bisogna andare lì, cattivi, come abbiamo fatto a Brescia, andare lì giocando come facciamo anche in casa, non avere paura, non ne abbiamo sicuramente, però rimanere concentrati per tutti i 90 minuti, sapendo che è una squadra che ha fatto il suo nel girone d'andata. Adesso forse stanno andando un po' meno forti, però comunque hanno fatto vedere il loro valore. Ci mancherà il loro capitano, se non sbaglio, quindi sicuramente è una cosa che ci aiuterà, però noi andiamo lì consapevoli che siamo forti e bisogna fare i tre punti. Intanto la disciplinare ha segnato tre punti di penalizzazione in classifica al Pisa, oltre a un'ammenda di 22 mila euro a seguito del deferimento della società per inadempienze nel pagamento degli emolumenti ai giocatori. I toscani ora a 30 punti sprofondano al terz'ultimo posto in classifica. Pareggio interno per la Fezzanese, che ieri al Miro Luperi di Sarzana ha impattato 0-0 con la Sanremese, gara ben giocata dai Verdi, anche se davanti non si riesce a fare gol. Sergio Di Ofili e Jacopo Cidale. La Fezzanese impatta 0-0 al Miro Luperi, resistendo alla corazzata Sanremese, decimata però da numerose assenze. Non stanno certo meglio i Verdi di casa, che non vincono dal 27 novembre scorso. Partono forti i ponentini già al sesto quando un errato rinvio di Novarino libera Gagliardi al limite che prova il pallonetto, sfera che si perde poco oltre la traversa. Si rifà poco dopo il portiere di casa che con un grande intervento leva dalla porta il colpo di testa di Cabeccia su punizione. La più grossa occasione del match per i matuziani arriva al diciannovesimo, Scalzi si incarica di battere la punizione e con un gran mancino manda la sfera a infrangersi sull'incrocio dei pali con Novarino battuto. Scampato il pericolo, la Fezzanese inizia ad abbozzare una reazione. Al ventitresimo, la Mioni si libera bene sulla destra e crossa dal fondo un gran pallone per Simeoni che spara alto sulla traversa. Passano due minuti, Bugliani incrocia il mancino calciando al volo di potenza con la palla che sorvola di poco la traversa. Nella ripresa, la Fezzanese prova a prendere in mano le redini della partita. Già al 49esimo spizzata di Verratti che libera Cragno, il quale viene però contrastato efficacemente da Marchetti che spazza il pallone. Dieci minuti dopo, la Mioni recupera una palla e la cede a sinistra Bugliani il quale calcia di potenza incrociando sul palo lontano, ma Massolo si supera. Quattro minuti dopo, sempre la Mioni, prende palla a centro campo, si fa tutta la fascia a palla al piede e calcia di potenza, ma troppo centrale con il pallone controllato da Massolo. Dieci minuti dopo, prova il break la Sanremese con Gaeta che al limite si aggiusta il pallone con la mano non rilevato dall'arbitro. La Mioni decide di fare tutto da solo, ma Massolo si supera e con la punta delle dita riesce a deviare in calcio d'angolo. All'87esimo però per poco gli ospiti non trovano la retta in modo fortuito con la palla che arriva sui piedi di Gaeta, ma la sfera finisce sul fondo. Oggi alle 11.29 siamo entrati ufficialmente nella primavera astronomica, il quinto inverno consecutivo relativamente mite si è concluso con temperature di circa un grado superiori alla media e per l'ennesima volta caratterizzato dall'assenza di neve sulla costa. Le precipitazioni hanno fatto sì che la stagione si possa classificare come poco piovosa attenuando solamente questo trend negativo sulla costa e sulla provincia spezzina. Una notizia che ovviamente ci porta a parlare di previsioni meteo per domani, condizioni generalmente di tempo variabile, simili in un certo senso alla giornata di oggi con una mattinata prevalentemente tra nuvole e solo qualche velatura dalla quale farà Capolino un timido sole e poi tendenza a prevalenza di cielo sempre più coperto fino alla serata. Umidità su valori alti, venti calmi o deboli variabili da sud a sud ovest con qualche rinforzo nel pomeriggio, mare poco mosso e temperature comprese fra 11 e 16 gradi. È tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni del TLS giornale. Arrivederci. Grazie a tutti.